L'olio proveniva dalla Puglia e dalla Grecia, ma sulla dicitura riportava extravergine di oliva IGP toscano. La procura di Grosseto ha sequestrato circa 200 quintali, con 47 persone raggiunte da informazioni di garanzia per frode in commercio e contraffazione di olio IGP. Circa 50 tra società e imprenditori individuali nelle province di Grosseto, Firenze, Arezzo, Siena e Foggia sono stati sottoposti a perquisizione e sequestro. Una lunga indagine che ha permesso di far emergere una consolidata attività illecita di commercializzazione di olio extravergine di oliva IGP toscano, che in realtà proveniva dalla Puglia e dalla Grecia. In tal modo gli indagati sono riusciti a lucrare sul maggior prezzo che l'olio toscano di pregio ha rispetto all'olio italiano e comunitario, sia sul mercato nazionale che su quelli esteri. Il corpo forestale dello Stato è impiegato in questa operazione oltre 100 uomini e donne di tutta la Toscana. L'attività illecita, spiega il procuratore della Repubblica di Grosseto, Raffaella Capasso, è stata scoperta anche grazie all'analisi del DNA dell'olio, utilizzata per le indagini solo di recente ma considerata l'unica in grado di caratterizzare in maniera inequivocabile specie e varietà diverse di olive, dalle quali si è stato prodotto l'olio extravergine.